Cercando di togliermi Winnie the Pooh dalla testa di... Stavo caricando il secondo episodio Direi che possiamo andare... Vi direi a sigillare la città di mezzo Perché immagino che sia quello che lo devo fare, no? Al secondo distretto E se parlassi ancora con Sid? Benvenuto! Non c'è più Sid Salviamo prima però di... Anche se non credo di sigillarla... Cioè... Immagino che... Immagino... Immagino che... Che cazzo non mi viene la parola... Che mi faccia fare una boss fight prima... Eccolo Sid Ehi, hai fatto presto! Non ho capito, mi lavoro a che fare con i Gummy Black Il lavoro sulla tua Gummy Ci hai prestato una faccia Vieni quando vuoi, per te ho dei pezzi speciali Ho ottenuto come Gummy Vendi pure un omaggio Beh, non male! Vediamo che... Vediamo gli accorzi adesso per avere quelle fighe... Per la... Per la nave Eccolo lì! Mi aspettavo un boss... Mi aspettavo un boss... Io stavo... Stavo come sempre... Stavo di attaccare con un quadrato... Ok... Ok... Meglio adesso... Ok... Ahia... Carcati un po' di fuoco... Devido... Ok... Già vinto, non può essere... Però vi stia facendo finta... Esatto... Cazzo? Ok... 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 Allora... Aia... Vai... Dai cazzo... Che domani non riesco davvero a giocarci... Purtroppo... Grazie... Fa pena... Ti devo una pizza... Ok... 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 Ma io spero che non cambi... Molto spesso... Perché sennò è un incubo... Ok... 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 Aia... Ok... Aia... Ok... Bella... Ok... 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 Sarebbe molto carino, ok. Non siamo mai stati in un mondo una volta velo sigillato, quindi non solivi se tornano o no, perché non l'abbiamo mai visto. Ok. Spero dovresti andare giù, eh. Magari, non adesso, però. Un pochino. Perché non mi voglio andare a letto. No, 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 non lo so, no. Cioè, io non ho stato sbadigliato come un cane, cazzo. I cani, ovviamente, sbadigliano fortissimo. Tipica, cazzo, è che fanno i cani. Ok. Ma volevano un po' ovunque i pezzi. Si compendono nelle mura, no? Oh mio Dio, ma sono morti tutti? Ok. Sola, mio. Per forza. Poi voi tornate in vita magari con più calma dopo, però. Ok. Se non mi cuoio io, qui è finita, eh. Quindi... Ma... Papirino, bravo. Porta in vita Pippo, ottimo. Mega Zod, è qui lo sconto, dai. Ok, ora sarebbe il momento giusto. Merda. Eeeh, merda. Merda se forse un piccolo cerco, per l'altro. Ok. Ma voi le puoi zingire, le ho già finite tutte. Non può essere. Scusami, eh. Ora, curiosità. Non hanno niente. Non hanno niente. Allora. Facciamo una cosa. Facciamo spesa da qui-quo-quo. Io mi... Io mi immaginavo che avessero di tutto. Voglio comprare il mondo, ciccio. Eeeh... La Splendipietra. Per... Comparne altre. Compro le pozioni normali. Ok. Niente. Allora. Ora. Oggetti. Ne ho 10, dai. Su. Non bastano. Eeeh... Paperino. Poi. Scambio. Con... Paperino. Poi. Pippo. Pippo, tu sai quello che... Avrà più possioni. Quindi... Pippo, tu devi essere... Bravo. E tra l'altro ne metto... Anche una... In più a sola. Ora. Andiamo a salvare in queste condizioni. E vediamo se posso affrontare quel boss o se devo soffrire alla città di Mersa. Per sempre. Ma... So già... Dove... Con questo so già, quello di riduzioni, sai. Benissimo. Vabbè. Arrivederci. No. Arrivederci. No. Arrivederci. No. Arrivederci. Simba. Simba. Non lo... Non li invocchiamo qui perché mi servirebbe uno sperco. Ecco. Ma vai più tardi. Appena finisce la mia vostra attenzione. Proprio nell'esatto momento in cui finisce. Ora. Quindi. Saltiamo. Simba. Come funziona? Come funziona? Come funziona? Che è la cosa più cazzuta del mondo. Però non attacca. Ah. Così. Fa un carica e poi mi ritornano gli altri. Ok. Ok. Figo. La presentazione forse è la più figa della... Della azione stessa. Vero. Figo. Che altro avrò come invocazione? Simba. Aschina. Poi. Che poi. Ora c'è ragionato. Una delle prime puntate. Avevo scambiato un tizio per Chicken Little. Proprio quella città di mezzo. C'è solo un problema. Quando questo gioco è uscito non c'è ancora Chicken Little. Non è ancora uscito. Non è ancora uscito. Non è ancora uscito. Ok. Ok. Dai però. Ok. Ah, grazie. Non è una palla. Dai. Ok. Ottimo, gli ho rotto qualcosa Lui ha rotto a me il cazzo, mi ha dato il discorso Ok Oh Ora spy Ok Mancuno, non sono cercato di vista Ok Grazie, papeno Ok Oh, ci sto mettendo un anno, eh Ok Bravo, pippo, curati Ok Ahia Ok No Il fuoco può fallire il male Ma perché mi prende, mi prende a pirore Ok Devo riparermi che poi non sono nella stanza del magomellino Non è che abbiamo La cosa infinita Ma sì che mi prende la vita Allora Perché Ok 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 No, via No, via Vabbè, che tanto c'è il muro non mi prendi Ok 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 Ma perché mi prende a pirore? Ti mi culi Tu vuoi il tuo prende a pirore? Ok Ho tenuto forza del vento a presa non ho ben visto che cosa grazie a navigarmi finita? niente festeggiamenti di alcun tipo? oppure l'ho fatto bene il mio lavoro sarà dal tetto distretto ovviamente alla casa allora ci sono tutti loro così anche questa città abbia una separatura me l'hai detto tu a presto Sara, gli Atlas stanno diventando sempre più forti grazie Sara, sei l'unico che può fermare gli Atlas forza custodia del Keyblade risultato dell'anchia, serratura sarà per la prossima volta va bene immagino che possiamo salutare questo mondo cioè non in maniera definitiva ovviamente chissà cosa è successo a mamma e papà catture numero 4 ok catture numero 5 ok allora cosa vuoi? ah che cosa devo chiedere? ah sì ricompare o vendere comprare allora ne ho due nella scorsa ah non ho niente tanto voglio vendere cosa posso venderti niente pippo posso vendere pippo proprio ehm no non ho nulla mi dispiace direi di tornare alla nave? oppure aspetta andiamo dal da seed ok ok ehi un altro navigami eh scommetto che lo vuoi installare sì per favore sembra un pezzo di navigami devi trovare l'altro pezzo ok va bene andiamo la porta dei mondi ah ok c'è un nuovo torneo sul monte unito dicono che si avvince ad un premio incredibile che cosa abbiamo? buco cosmico? buco cosmico velocità warper che cos'è? mi salto tutto beh andiamo allora ciao ercole so è il momento di passare da cucciolo d'erroia per errore ok ok conoscere bene a quale torneo partecipi coppacchetto che sistema di ore valosi normale ok ok oh no penso siamo dei peggiori incubi che abbiamo mai avuto ok 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 e il primo è fatto poi va bene ah ok mi da l'elenco di di provare incontro bene immagino che sia questo no? aia ma posso prendere almeno una volta? bastardi volanti ok papirino è il curatore è vero per me non ha funzioni ma papirino è aumentato di livello penso sia una delle belle notizie che ho detto perfetto andate devasta a piedi ok penso di non aver mai visto una cosa così tanto bizzarra in questo gioco in questo gioco però non ci siamo arrivati a cosa così tanto bizzarra in questa ok ci stiamo avvicinando eh ok 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 aia adesso il mio è morto il curatore? ok ok aia attenzione su sola ok ok aia via andata ok 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 questo è il suo potere del gioco perciò attenzione blu ciccio e power walk, ah si chiama blu ciccio lì l'uomo mi sfuggeva aia non ho qui niente sora mi spiace papirina sono anche aumentato il livello ok ok ti incuri? quella che è spanchata di merda ah ora sono completamente da sodo può essere un problema ok ok eh vabbè è una puttana ok 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 eh ma lui mi prende, puoi scendere così ok ho capito aia cazzo che oh che oh e non è niente per... ok ok eh esatto eh vabbè non lo posso fare non lo posso fare fino a quando non... non... eh... mi servono pozioni ok che cos'è? ehm... 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 andiamo prima qui ok 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 ah... ok 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 tornare sulla nave, perché voglio andare qui e sapere che cos'è e ottenere anche qualche mani, perché gioco non metri più facili, quindi ho bisogno di pozioni per curarmi. Per ora non ho ancora raggiunto la frustrazione, ma conoscendomi arriverà tra non troppo e magari proprio il mondo dei guini de puken, disintegra, quindi chiamarla lì, non può volerci così tanto, era lì nella mappa. Ma io l'ho determinato in Mass Effect, così da uscire la gente, mi è arrivato in mente. Comunque ogni estate ci deve essere una saga, per me, da iniziare e finire l'estate, comunque portare avanti bene l'estate. E se ne ferma uno spaziale, è una porta verso gli inundi. Da un paio d'anni a questa parte in realtà. ogni estate praticamente io mi trovo alle prese che è una saga diversa. L'anno scorso fu Silent Hill, nel 2020 fu Mass Effect appunto. Nel 2019, in realtà mi sa di noto quello che ho detto da un paio d'anni a questa parte. Nel 2019 mi sa che era tutto normale, non c'erano saghe diverse. però io ti do caldo un po' più, non c'è capitata. Da un paio d'anni, invece, saghe di continuo, cazzo. quest'anno, Kingdom Hearts, quest'anno due tra l'altro. Kingdom Hearts are in the dark. Ah vedi, ce l'ho messo di più, eh. E mi pare perché, poverso, il secchio si distrugia. Cioè, si... ci riscatterebbe. Ah, PlayStation, in realtà, l'avremmo cominciato a marzo, tipo. Il primo, non mi credo se è un nostro aprile. E poi... Ah, guarda. Nova Record. E poi... Sviluppata l'estate con i capitoli migliori, il due, il tre. E poi continua a chiacchiare dopo. C'è chiacchiare? The Heartless are searching for it now. I'im'm certain, we'll find it soon enough. So that just leaves... Jaffar, ho cercato a tutti i jazmini, lei ha dissiperato come magia. La ragazza ha più problemi di più che si vale. Dicevi che hai cose sotto controllo. Agrabah è pieno di scopi per i rati a scoprire. Ma perché preoccupare la Princesa Jasmine? Non lo so, non lo so. Probabilmente questo mondo sarà il nostro quando troviamo il keyhole. Ne abbiamo bisogno di tutte le sette Princese del cuore per aprire la porta finali. Quali più è più utile. Beh, se la Princesa sia così importante, la troviamo. Troviamo Jasmine e portarla a noi. Non ti stai cagando in scuola per molto tempo. Il cuore che consuma il cuore. Non ti sta cagando amica mia. Ahahhhhhhhhhhhhhhhhh your concern is touching but hardly necessary. Jasmine Ah così proprio? Ma sono Jack una Spawn Hunter. Ok. È proprio a fare il suo maggio. 7 punti esperienza, oh mio dio ok ok i riporti ok mi pare bene una cuffia perché è allucinante una volta è alto che è stata una spawnata da me mega pozione il ripostiglio la strada principale vabbè ti ricominciare il ripostiglio, siamo qui ahia aspetta ok bene prossima volta